La società TUA ha presentato nel corso di una cerimonia istituzionale che si è svolta nella stazione di Lanciano l'acquisto di defibrillatori semi-automatici che saranno installati sui treni della divisione ferroviaria di TUA. Presenti il presidente Marco Marsiglio e l'assessore alla salute Nicoletta Veri. Un ringraziamento ai vertici di TUA, ha detto l'assessore alla salute Nicoletta Veri, nel corso del suo intervento per aver scelto di dotare i propri treni di questi defibrillatori che rappresentano davvero un sistema per rendere i viaggi più sicuri dal punto di vista sanitario per i passeggeri. Una scelta non scontata, ha aggiunto, in quanto non c'era nessun obbligo di procedere a questa iniziativa che testimonia però la grande sensibilità e attenzione dell'azienda di trasporto regionale nei confronti della propria utenza.